ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o princapi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco actigel a cosa serve actigel a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per ginecologia altri è commercializzato in italia dall'azienda caro farma srl informazioni commerciali titolare caro farma srl concessionario caro farma srl categoria di appartenenza dispositivi per ginecologia altri confezioni actigel multi gin 50 ml indicazioni actigel altamente efficace nella prevenzione e nel dare sollievo alle vaginosi batteriche vb e dai disturbi collegati come perdite odori prurito irritazioni sensibilità e indolenzimento descrizione e caratteristiche il complesso brevettato di polisaccaridi 2 qr blocca i batteri nocivi in modo naturale e sicuro actigel contrasta inoltre le infezioni micotiche candida ottimizza la flora vaginale favorendo il sistema naturale di riparazione dei tessuti e migliorando le condizioni della mucosa actigel offre un sollievo immediato e disturbi vaginali actigel basato sul complesso brevettato di polisaccaridi 2 qr non contiene profumi o ingredienti di origine animale n a copyright sostanze chimiche aggressive conservanti odormoni e da copyright sicuro ed innocuo previene di a sollievo ai disturbi vaginali ha un effetto calmante immediato su prurito irritazioni riduce perdite odori sgradevoli procura sollievo nei disturbi vulvari e vaginali previene e dalle via le vaginosi batteriche contrasta le infezioni micotiche migliora la flora vaginale e la condizione dei tessuti è sicuro e naturale avvertenze dopo l'applicazione si potrebbe manifestare una sensazione di formicolio tale sensazione anormale e scompare in pochi minuti actigela completamente sicuro e non ha restrizioni nell'uso può essere usato successivamente all'assunzione di un farmaco componenti e ingredienti aloe barbadensis estratto marinane galactora binampoli glucoronica cid cross polymer glicerina caprile il glicol fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax t sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato